gentili telespettatori buona giornata bruno vespa dice ecco perché hanno confermato luigi di maio al ministero degli esteri la sua è una valutazione che avevo fatto che avevo fatto anch'io quindi analizza le scelte di mario draghi e sergio mattarella per la formazione del governo di alto profilo e lui avrà pensato come ho pensato anch'io ma che c'entra luigi di maio in un governo di alto profilo di alto profilo il luigi di maio non c'è assolutamente nulla di nulla e così la risposta è molto semplice il giornalista più famoso d'italia il giornalista di rai 1 bruno vespa è convinto che si sia occupato prevalentemente della scelta dei tecnici mentre il capo dello stato i suoi consiglieri delle scelte politiche quindi è convinto che ci sia stato draghi che ha scelto i tecnici e mattarella che gli ha mosso le pedine politiche per esempio zingaretti il segretario del pd sarebbe entrato volentieri nel governo ha scritto vespa nel suo editoriale su il giorno ma se c'era zingaretti ci doveva essere rocco crimi doveva esserci anche salvini salvini e zingaretti allo stesso tavolo mai successo e sarebbe stato troppo pesante il problema secondo mattarella e secondo draghi e quindi di maio invece sarebbe rimasto agli esteri perché perché il movimento 5 stelle non ha un leader di maio non è il leader dei 5 stelle non è neanche rocco crimi vabbè su questo e se roberto speranza che pure segretario di articolo 1 è rimasto alla salute per non cambiare timoniere a una nave che naviga da un anno in un mare in tempesta quello della sanità e quindi secondo bruno vespa il l'esecutivo è assai equilibrato sono stati ridimensionati grillini pattuonelli retrocesso all'agricoltura la dadone alla gioventù è così insomma secondo vespa e il governo è abbastanza equilibrato è abbastanza equilibrato e comunque questo è il motivo del perché sarebbe rimasto luigi di maio io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti